Allora bravo Enea! Adesso facciamo il lavoretto più bello di halloween Facciamo il lavoretto più bello di halloween è vero? È vero o no? Sì! Questo è il lavoretto più bello? Sì! Tagliamo la zucca guarda quanto è bella grossa Allora siccome questa zucca è larga e bassa dobbiamo fare una zucca cattiva così facciamo gli occhi fini e la bocca con i denti a guzzi Va bene? Allora prima di tutto Prima di tutto dobbiamo disegnare Basta con questi scarafaggi! Andiamo a disegnare la faccia che vogliamo fare Allora Ok Una volta che abbiamo fatto un disegno Vediamo l'approssimativo Ciao papi Guarda Andiamo a tagliarla, a scalarla dentro e a fare il disegno della faccia Bene? Allora Ci serve questo Allora 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 Vediamo qua Fatemi sempre aiutare da un adulto eh! Non lo fate mai da soli giusto? No! Ok Allora 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 Guarda Guarda Aspetta Che è? Che è? Guarda Buono! Buono! L'hai visto? Buono! Cosa è buono? Buono! Allora 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 Andiamo a andare a togliere tutti i semi Ok Abbiamo svuotato la zucca Adesso andiamo a intagliare la faccia della zucca Giusto? E Ma vi di da Forza Amma 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 Come va ecco la nostra zucca cattiva adesso che manca la candela ok aspetta prima mettiamo le candele no non devi soffiare non è il compleanno aspetta papi aspetta aspetta eh attenzione wow piccola zucca mamma mia che paura è vero wow abbiamo finito la nostra zucca che paura che fa è vero mamma mia qua dentro ci sono ragni pipistrelli scarafaggi le zucche oddio scappiamo 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 grazie a tutti